Fino al 48% delle specie animali e vegetali sono ad alto rischio di estinzione a causa del cambiamento climatico, un problema che già investe metà della popolazione mondiale, soprattutto nel sud del mondo e nelle piccole isole. L'allarme è stato reiterato da un report del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Questo rapporto è un terribile avvertimento sulle conseguenze dell'inazione, ha detto Ho Sung Lee, presidente dell'organismo che fa capo alle Nazioni Unite. Questi potenziali cambiamenti reversibili negli ecosistemi iniziano a minare i mezzi di sostentamento e quindi iniziamo ad affrontare una minaccia esistenziale, non solo per la natura ma anche per le persone e questo ci riporta alla constatazione che dobbiamo affrontare entrambe le cose parallelamente. Secondo il rapporto del gruppo intergovernativo, se il riscaldamento globale causato dall'uomo non verrà limitato urgentemente, una terra ora colpita regolarmente da calore mortale, incendi, inondazioni e siccità, nei decenni futuri si degraderà in 127 modi diversi, alcuni dei quali potenzialmente irreversibili.